Sdrai di a terra a pancia sotto, con la fronte a terra e le braccia in fuori all'altezza delle spalle. Le punte dei piedi sono puntate verso il pavimento e non verso il muro dietro di te. Da questa posizione per prima cosa gira le mani in modo che i pollici puntino verso il soffitto e fatto questo chiudi le scapole e solleva le braccia da terra. Ritorna poi nella posizione di partenza fino a toccare con le mani il pavimento. Ogni volta che le braccia vengono su, tieni la posizione per almeno un secondo e poi ritorna nella posizione di partenza. Ti consiglio di mantenere una certa contrazione dei glutei per tutto il tempo se hai fastidio alla zona lombare.